Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! L'1% di chi guarda i miei video è successo. Oddio Ma è bello e buono in comparsa C'è io ho 31 centro Abbiamo fatto un Oh Oh cazzo sto pagando sotto Mamma mia colofa Pascare un dracì Mamma mia Pascare un dracì Provo come prima Sono carico vassone Ma non funziona Non funziona Non funziona Sto cosa Non so No 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 Non funziona Non funziona C'è non stai facendo niente C'è No Si dice Ritando un nerd No Ma questo penso che sta gelato Non so Alexa accendi palloncino Alexa accendi palloncino C'è 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 Da questa casa il sindaco non avrà nulla Vabbè C'è Senti apri un po' la porta Oh Oh Le tasse si può Davvi cinque di avanti voi di Non ti permettere Oh C'è C'è Anche questo annulato Il Io 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 Il Il イ Il 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 pavone, il pavone. Il pavone. Il pavone, il pavone, il pavone. Allora mi scusi un attimo perché ho dato, ho fatto daaaah Oddio, 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 ma che cazzo stava facendo? Oddio, oh Eh collega, per frutto d'auto lo dobbiamo tradurre in centrale Ma che cazzo? Ma che cazzo ha compilato? Non so Come la ripeto la patente Allora, patente di guida Stefano Buzzalli Oh, la trovata Buzzalli Ecco qui, ecco qui, allora la prendo un attimo Mi scusi ma Sì sì, venga con noi di Troll V Vengo in generale Dragone, comunicazioni brevi, veloci e concise Solo quando estremamente è necessario, chiudo Gulus, sta ingazzato, chissà Solo calmo sta minghia! Va boh! No, perché vedono l'orario, calcano le ore Ha dormito dieci ore Madonna mia, madonna mia, bastano sette ore Ah, 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 ah Per quello voglio sapere l'orario Questa è una nuova E non lo so, sta scritto qua Nissan Quashquai Quashquai? A Nissan Ka Ah, Qashqai, Qashqai Ah 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 aah Cascai ah certo ok ora Dico pensavo fosse uscito... La quashu... Cascua di Kshu... Alexa accendi palloncino alexa accendi schiuma così cazzo legge abbiamo ma ammaccata la padella si è la padella ma come dobbiamo fare ok improvviso signori non vi preoccupate era tutto nello sperimento tutto nello sperimento questo questa cosa doveva cadere quindi è stato voluto è stato voluto ok vabbè ormai se un po ammaccata e si se un po ammaccata e diciamo questo nostro annese disco volante questa e quell'altra alexa accendi schiuma ok 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 alexa accendi pioggia ok 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 alexa accendi discoteca ok 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 tutti i orsecchiotti del mio cuore, passerotti, buongiorno, come state? Ciao Fiorellini, ciao